oggi è il 21 aprile 1945, Bologna è libera, i partigiani in città 1999, bombardamento aereo a Belgrado 1864, nasce Max Weber commenta il fatto del giorno Sandro Neri, direttore del Il Giorno oggi parliamo del golpe dei colonnelli in Grecia sono passati 50 anni, quell'episodio ebbe grandi ripercussioni in tutta Europa e anche in particolare nell'Italia di quel periodo Grazie